Dall'Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, buongiorno da Livio Stefanuto. Come vediamo l'anticiclone si è impadronito del Mediterraneo, di paesi mediterranei, con aria mite e secca in quota, mentre nei bassi strati arriva aria più umida. Per sabato prevediamo inizialmente cielo sereno su tutta la regione, poi sulla pianura comincerà a formarsi dell'anosità locale, quindi avremo un cielo poco nuvoloso, più variabili invece in montagna. Temperature massime simili ai valori di venerdì, forse qualcosina in meno, massime sui 22 gradi in pianura, 21 sulla costa. Anche per domenica tempo piuttosto umido su pianura e costa, cielo che si farà variabile. Durante la notte saranno possibili nebbie in pianura, in particolare nel Porto del Nese, il tempo rimane migliore, invece più soleggiato in quota sulle Alpi in particolare, quindi nelle zone interne delle prealpi. Sulla costa venti molto deboli, temperature massime, lo dicevamo, attorno ai 19-20 gradi su pianura e su costa. È tutto, buon fine settimana. Grazie. Grazie.